acquerelli concentrati questa è arte per te ciao a tutti e benvenuti da ombretta su arte per te scusate il frastuono ma ho la finestra aperta 50 gradi all'ombra unico modo per sopravvivere ai faretti quindi perdonatemi allora oggi parliamo di un nuovo tipo di acquerelli più che nuovo un tipo che non abbiamo mai visto su questo canale gli acquerelli concentrati della art philosophy by prima me li ha inviati l'azienda per provarli non ricevo compenso per questa recensione quindi via con la più crudele delle recensioni pronti per provare gli art philosophy by prima i concentrated water color cioè gli acquerelli concentrati e liquidi soprattutto quindi già pronti all'uso li proveremo bagnato su bagnato bagnato su asciutto diluiti e miscelati per creare nuovi colori perché io qui ho pochissimi colori soltanto sei e ve li presento ho un bellissimo fire brick quindi un rosso fuoco io andrò a scuotere acquerelli acid free abbiamo un bellissimo giallo taxi hanno dei nomi molto new yorkesi molto new yorkesi questi acquerelli sono americani del resto sono della prima art philosophy poi orange red quindi un rosso arancio e scuoto 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 un bora bora blu che è un bellissimo colore poi due verdi vacation si è un lucky che mi piace molto come nome fortunato verde fortunato verde dollaro no quindi è lucky vengono venduti in queste confezioncine corredati di mini libretto di istruzioni non in italiano e ma in pratica si capisce dall'inglese o dallo spagnolo almeno si si capisce bisogna mettere una goccia sulla tavolozza poi miscelarla con più o meno acqua a seconda dell'intensità del colore desiderato e i colori tra di loro possono essere miscelati non da ingerire attenzione tenere lontano dalla portata dei bambini attenzione possono essere credo cancerogeni se sulla pelle o ingeriti non ho idea bene cominciamo alla grande comunque vediamo un po come funzionano noi non li ingeriamo non li mettiamo nell'inserata ci servono appunto per dipingere si presentano con la loro pompettina e hanno dei bei colori vividi a vedersi red fire orange red bellissimi molto molto intensi giallo taxi lucky bora bora e vacation bellissimo questo colore verde pulmino arte per te allora cominciamo subito questa volta farò tre sample allora e cominciamo cominciamo innanzitutto ad utilizzare i colori in purezza quindi comincio dal rosso naturalmente ho bagnato le setole dopodiché molti mi hanno chiesto scrivono come gli ecoliner mi si sono più ancora più vivaci come potete vedere e sono molto molto concentrati come potete vedere ho appena immesso il pennello e l'acqua è già tutta tinta quindi in purezza adesso vediamo le tinte sono bellissimi per i manga e per le illustrazioni perché danno questo tono super super bello usarli così è un po un peccato perché naturalmente ne consumate tantissimo quando la potenzialità di questo prodotto è proprio data dal fatto di poterli diluire come gli acquerelli bellissimi colori belli compatti anche in purezza hanno delle belle tinte super vivide bene questo è il colore del mio pulmino del nostro pulmino nuovo stupendo e infine bora bora blu wow anche lui niente niente male in purezza le tinte sono così ora le diluiamo leggermente e le diluisco in tavolozza ne prendo un po e la diluisco e la uso in purezza diluita cioè bagnato su asciutto voilà diluisco ancora perché ovviamente il grado di diluizione lo decidete voi anche qui bagnato su asciutto andiamo con l'orange prendiamolo diluiamolo si è vero sono molto molto concentrati wow molto belli però come vedete si distribuiscono perfettamente sulla carta non sfrangiano lo diluisco ancora di più vi faccio vedere le pozzanghe diluiamo da diluiti sono belli vividi e trasparenti tengono bene la pennellata diluiamo maggiormente hanno una carica colorifera veramente veramente importante questo vedete anche super diluito tiene grandemente il tono diluisco bellissimi vividi vivaci proprio vivacissimi diluisco bellissimi bellissimi allora colori belli dal dall'impronta molto 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 moderna cosa significa che sono talmente sfacciati talmente presenti che per essere utilizzati nella maniera classica dovete proprio molto diluirli e acquerellarli quindi vi durerebbero una vita veramente proviamo il blu mentre usati nella maniera così con questa vivacità di colore si prestano benissimo a questo proprio guardate che toni modernissimi si prestano benissimo a questo un po' più complessi da usare se volete creare dei toni classici per intenderci però ci si può molto lavorare per intenderci voi direte ma a me serve un marrone ora poi lo creiamo insieme intanto proviamolo bagnato su bagnato prendo il diluito prima poi faccio il bagnato su bagnato con i concentrati e prendiamo bagniamo la terza diluito wow il giallo ha una carica esplosiva proprio di intensità in tutte le sue forme dovete molto molto diluirlo il giallo taxi proviamo il verde lucky prendiamo e inseriamo bellissimo veramente molto bello molto semplici da stendere hanno una stesura molto facilitata in tavolozza creano una miscellanea un po' fluidoguidata di sombretta cosa vuoi dire quando io passo il pennello vedo una sorta di emulsione non è liquida come gli acquarelli normali ma rimane una sorta di cremosità nella pozzanghera che mi fa supporre che ci siano all'interno additivi non in senso negativo additivi in senso di coagenti di miscelazione che tengano più morbido il passaggio e più elastica la stesura io già li ho utilizzati prima di farvi vedere per farmi un'idea perché questo non è prodotto che può rendere l'idea soltanto in un attimo di i sample quindi già li avevo utilizzati e vi posso dire che per rimuovere dal piatto i colori ci sono stata un pochino e quindi ha dei fissativi molto molto particolari che non sono quelli dei classici acquarelli adesso facciamo il bagnato su bagnato con le tinte in purezza dove si trovano in italia non so io li ho prese io li ho contattati bellissimo per dare degli effetti guardate come sviluppano e si imperneano e si imperneano nella struttura della carta stupendo per dare degli effetti molto particolari è stupendo guardate qui insomma è concentrato è molto concentrato comunque anche sul bagnato bagnato su bagnato con il colore concentrato viene fuori una figata pazzesca termine poco tecnico ma che rende molto bene no? rende molto molto bene il concetto mi sposto più verso di voi perché non so se mi vedete bene quindi colore puro bagnato su bagnato bagniamo 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 qui c'è molta acqua scarico un po' tiro via bagniamo bagniamo prendo questo verde il vacation wow vedete come lui va si sono un po' come le ecchine colorate ma non del tutto perché hanno una una trasparenza maggiore una minore texture diciamo come si sono più sottili meno evidenti degli eco liner per esempio per esempio ma hanno la stessa potenza molto 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 belli ora voi mi direte ma io voglio un tono classico no? voglio un marrone beh proviamo a farlo per fare un marrone ne potremmo mettere del rosso e del giallo e del blu viene fuori un bel terra ombra naturale mettiamo ancora un po' di rosso e viene fuori un bel marrone caldo insomma cominciamo a saper miscelare le tinte ragazzi se noi vogliamo un colore dobbiamo anche sapercelo fare usiamolo in purezza bagnato su asciutto eccolo qua quindi direi che ci siamo facilmente miscelabili facilmente bagnato su bagnato lo metto qua il marrone va a sé e danno vita anche a altri colori molto fedeli cioè la tavolozza la rispettano voilà ma io voglio un giallo più scuro e allora prendo un verde e lo miscelo quasi un ocra eccolo qua prendiamo un altro po' di verde mettiamolo dentro col marrone di prima e vediamo se abbiamo ottenuto l'ocra beh sì un altro po' di marroncino e il gioco è fatto per fare marrone aggiungo giallo e blu ovviamente e abbiamo l'ocra sì sì si possono fare tutti i colori che vogliamo risultano benissimo è affidabilissimo e guardate la vivacità della cartella colori cosa dire di questi colori molto belli ve l'ho già detto belli omogenei nella stesura guardate le pasticchere sample sono molto freschi sono belli vividi e coprenti no coprenti belli vividi e pieni di tono in purezza sono comunque trasparenti non riescono a coprire ciò che c'è sotto sono molto squillanti anche da bagnati su asciutto con diluizione e diluizione molto profonda quindi i due gradi di diluizione sono belli e vivaci anche da bagnato su bagnato in con pozzanghe da già diluita così come sono super vivaci e molto molto sognanti questi così per l'illustrazione sono bellissimi da puri su supporto bagnato in più miscelabili tra di loro riescono ad assurgere alle tinte classiche dell'acquerello quelle che servono anche a noi che non facciamo magari l'illustrazione ma che facciamo degli acquerelli classici del verde dei paesaggi e come vedete vengono fuori dei colori anche qui belli nitidi affidabili nei toni e io non ho neanche i primari quindi venendomi senza i primari immaginiamo se uno dovesse selezionare i non primari io ringrazio la prima Art Philosophy per avermi mandato questi colori e vi lascio il loro link nel box informazioni me li hanno inviati loro ovviamente ma non sono stata retribuita per fare questa recensione è un nuovo modo di acquerellare non è possibile essiccare la goccia e farla rinvenire per dipingere non viene bene viene molto farugginoso e macchinoso ma è possibile diluirli in un acqua brush e portare una bellissima gamma colori insieme a noi certo dovreste avere molti pennelli a serbatoio per poter andare così to cure di tono in tono e creare anche le tinte personalizzabili all'interno degli acqua brush quindi in questo caso non facendo essiccare il colore sono utilizzabili anche dopo molto tempo bene voto io darei un bel 9 non do il 10 soltanto per la difficoltà della reperibilità che comunque è un problema oggi come oggi superabile perché mettiamoci in testa ragazzi che malgrado i nostalgici premano perché le cose rimangono allo status quo ma il mondo molto si sta spostando sul web è anche il bello questo perché magari chi vive nelle grandi città come me o come chi vive a Milano chi vive a Bologna ha tutto a portata di mano ma pensiamo alle migliaia di centinaia di italiani che vivono in paesini arroccati un po' ovunque dove non c'è nulla la possibilità di ottenere un prodotto come questo è pari alla possibilità di ottenere un prodotto italiano basta andare su internet e cliccare e questo secondo me è bellissimo io sono sempre aperta alla modernità capisco tutte le problematiche che ne derivano le capisco non è questo il momento di affrontarle però devo dire che la possibilità di avere un prodotto che viene da oltrooceano completamente diverso da quello che abbiamo in Italia che ha una potenzialità per il miglioramento del nostro lavoro io ragazzi la trovo una cosa fantastica guardate qui parlano da soli quindi 9 ma fosse per me anche 10 quindi vi lascio le foto e ci vediamo subito dopo qui avete visto non ho risparmiato nulla li ho provati bagnato su asciutto bagnato su bagnato diluiti al contrario insomma li ho provati in tutti i modi e hanno sempre ottenuto un grandioso risultato quindi super consigliati mi piacciono un sacco io non so dove potrete comprarli dal punto di vista negozi fisici vi lascio il link qui giù in info box se li trovo su amazon o il link al sito della art philosophy by prima per potervi magari anche voi stessi informare bene un nuovo modo di fare acquarelli almeno per me che mi è piaciuto tanto prima di salutarvi vi invito tutti sulla mia pagina facebook dove ogni giorno mando tre video tutti i video di arte per terra più vecchi e più nuovi magari quelli che vi erano proprio scappati e che vi servivano tanto quindi iscrivetevi su facebook e seguitemi anche su instagram per aggiornamenti ed anteprime detto ciò non mi rimane che salutarvi e rimandarvi al prossimo video da ombretta ed arte per te tutto alla prossima volta ciao